ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi è martedì quindi come ogni martedì esce un nuovo video delle makeups angels quindi un video che riguarda me fabiana elisabetta per questa settimana abbiamo deciso di farvi incuriosire delle nostre borse e farvi spulciare cosa c'è all'interno quindi vi faremo vedere un what's in my bag in versione autunnale queste diciamo sono le borse che noi utilizziamo in questo periodo perché già ovviamente siamo in autunno ovviamente giù nell'info box troverete i video delle altre due angels quindi il video che riguarda fabiana elisabetta e ovviamente aspetto un vostro like per quanto riguarda questo video e poi mi dovete dire cosa avete dentro le vostre borse perché sono molto ma molto curiosa allora io vi faccio vedere la borsa che sto utilizzando in questo periodo che sarebbe questo sarebbe uno zainetto io in questo periodo non utilizzo borse perché preferisco di più utilizzare lo zainetto per fare shopping più che altro perché ce l'ho nelle spalle quindi ho le mani libere nel fare acquisti e spulciare le varie cosucce apriamo questo zainetto e vediamo cosa c'è all'interno io ho tolto la borsa quella un po' marroncina che avevo nel precedente what's in my bag in caso ve lo lascio qui sopra perché vado cambiando sempre una volta metto una cosa una volta metto un'altra cosa io di solito quando abbino la borsa o lo zaino come in questa occasione in base anche alle scarpe quindi siccome in questo periodo sto camminando spesso con le scarpe di ginnastica da ginnastica automaticamente ho questo bellissimo zaino grigio grigio tipo antracite e con tutte queste bellissime borchie e cerniere mi piace veramente tanto allora apriamo e vediamo cosa c'è all'interno già vi faccio spulciare qualche cosa allora la cosa che porto sempre dico sempre infatti la trovate in qualsiasi tipo di borsa sono i fazzoletti mai 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 uscire senza un pacco di fazzoletti di solito quando esco con i miei figli ne porto uno massimo due pacchi perché devono pulirsi gli occhiali mamma mi serve un fazzoletto quello quell'altro quindi lo porto sempre l'altra cosa che vi faccio vedere è questo queste quelle borse che si richiudono e si fanno diciamo così piccoline sono questo tipo di borsa qua per fare shopping io la utilizzo e quando finisco diciamo l'utilizzo la inserisco nella sua pochettina così diventa abbastanza piccola da inserirla direttamente dentro lo zaino poi un'altra cosa che trovo ovviamente essendo lo zaino piccolino ho messo il mio portafoglio piccolo questo l'ho comprato da aliexpress mi sono trovata bene sinceramente con questo portafoglio vi faccio notare che non ci sono soldi che sono poverini in questo periodo e vi faccio notare anche gli amori della mia vita che sono i miei figli quando erano piccoli perché adesso ovviamente sono dei giganti e loro li porto sempre con me perché ovviamente sono la mia vita e la mia vita viene dietro me poi un'altra cosa che porto in questo periodo è questa vedete io la metto anche qua dentro perché voi dite perché io esco questo è il periodo ovviamente mi trovo in sicilia quindi sapete che diciamo è una terra abbastanza calda il freddo lo sentiamo più tardi diciamo più tardi possibile verso dicembre io mi ricordo che anche nel periodo di natale io avevo una magliettina a maniche corte poi di sopra avevo una giacchettina tipo del genere allora vedete che io sono a maniche corte sta facendo caldo ma veramente un caldo afoso infatti per truccarmi poco fa ho utilizzato dottore che vi saluta e vi ringrazio a tutti perché l'avete riempito di complimenti io cosa faccio metto questa giacchettina sono delle giacchettine proprio di cotone non sono pesanti la metto tipo arrotolate in questa maniera beh adesso l'ho presa quindi un po' diciamo ho tolto dall'arrotolamento che avevo prima la metto dentro la borsa se sento freddo la prendo e la indosso semplicissima la giacchetta è questa se non mi sbaglio non mi ricordo questa forse l'ho presa questa l'ho presa al mercato le altre invece le ho prese da piazza italia un paio di anni fa uno due anni fa e sono questi tipi di giacchettine vedete queste giacchettine leggere leggere ma soffici e morbidi che tengono veramente calore ovviamente non è un giubbotto però io lo preferisco perché certe volte ho problemi alla cervicale quindi lo metto sulle spalle oppure lo indosso perché sento freddo in questo in questa borsa c'è questa qua giacchettina bordeaux perché è un bordeaux questa invece io la vedo rossa nell'antettima invece questo è un bordeaux simile al rossetto che indosso perché avevo i pantaloni bordeaux l'altra volta quando sono uscita e quindi ho messo la giacchettina in base anche ai pantaloni e tutto vabbè sapete che io sono fissata mi piace molto il cotone è leggero non è pesante ha i bottoncini se li trovo se li trovo ve li faccio vedere che ha i bottoncini si ha i bottoncini sempre bordeaux come la giacca ed è molto molto morbida vediamo se c'è scritto è 35 per cento di viscosa 28,5 di poliamide poliamide 23,5 di nylon e 13 di modal comunque morbidissima a me tiene calore sinceramente quindi per me è ottima e poi piegandola piegandola ovviamente in modo pulito io riesco a metterla in qualsiasi borsa infatti io di solito la piego in questa maniera e poi la arrotolo ve lo faccio vedere ovviamente la arrotolo in questa maniera e la inserisco dentro la borsa e mi rimane perfetto ovviamente adesso la sto mettendo così ma io di solito la piego proprio nel tavolo nel letto la piego tranquillamente e poi la inserisco nella borsa io mi ci trovo bene con queste giacca ce l'ho di diversi colori perché li porto nella borsa e nessuno se ne accorge sinceramente quindi è una cosa ottima un'altra cosa che ho dentro la mia borsa è i soldi a moneta chi di voi non ha soldi a moneta allora io di solito metto di lato i soldi a 10 20 centesimi 5 centesimi perché la mattina passa il ragazzo per il pane quindi io compro il pane e i soldi a moneta mi servono per comprare ad esempio il pane molto spesso li tengo in questo in questa pochette perché me li porto anche in giro perché quando andiamo a catania ad esempio dobbiamo pagare il parcheggio dove mettiamo la macchina o che sia diciamo che c'è il signore lì per diciamo che è adibito per il parcheggio sia quando andiamo nelle macchinette direttamente e a me sinceramente non mi piace andare nei bar a cambiare soldi eccetera eccetera io preferisco già averli a prescindere e quindi io li metto qua dentro so che devo uscire li porto assieme a me e quindi quando diciamo arrivo nel posto dove pagare ho i soldi e poi questa è la pochettina che tra un paio di settimane inizierà a venire con me a casa di mia mamma perché inizieremo a giocare a carte quindi questa pochettina ci sarà anche forse per il prossimo mese un'altra cosa che porto sempre con me è una penna questa è la penna che sto utilizzando l'avete visto anche nell'altro what's in my bag perché la penna diciamo che ho in questo periodo e scrive benissimo e quindi me la porto dietro purtroppo non c'è il il diario il libricino perché quello è troppo grande qui dentro non ci entra e quello piccolino l'ho data alle mie nipotine quindi poco fa diciamo si sono messi a scrivere e me l'hanno finito perché avevo una specie di agendina piccolina e loro sono passati il tempo e l'hanno finito quindi non ce l'ho un'altra cosa che ho dentro la borsa cioè in questo caso lo zainetto è una cosa che non manca mai perché di solito la tengo dentro il portafoglio ma in questo periodo è dentro la borsa e l'occhi io soffro di mal di testa anche avendo anche la cervicale soffro così tanto che la devo portare assolutamente dietro con me infatti la mia migliore amica ce n'ha una dentro la macchina cioè ce l'abbiamo dappertutto abbiamo l'occhi perché ci soffriamo tutte e due quindi questa ce la portiamo sempre e poi un'altra cosa che c'è dentro la borsa sono le gomme perché ovviamente le utilizziamo a me cioè di solito io in macchina non mastico però se vado in giro per negozi e tutto per non diciamo cercare qualche cosa da mangiare preferisco avere una gomma in bocca così non sento diciamo lo stimolo della fame e per quanto riguarda questa borsa è tutto vabbè poi ho qui la patente che la porto ma soltanto perché diciamo è piccola come tessera poi nella tasca qui davanti dello zainetto abbiamo il mio amatissimo burro di cacao sapete tutti che è il migliore in assoluto sta per finire perché sta arrivando proprio alla fine guardate alla fine è il migliore se qualcuno soffre anche di labbra screpolate o di herpes o di qualsiasi altra cosa questo è un balsamo labbra sinceramente ottimo mamma veramente eh non vi sto dicendo delle cavolate è un signor balsamo labbra è ottimo lo dovete acquistare perché è una meraviglia costa 7 euro ma 7 euro è tutto beneditto come si dice in siciliano 7 euro tutto beneditto allora vi faccio vedere l'ultima cosa perché la penultima cosa me la sono dimenticata sopra il letto perché era la mascherina siccome io ogni tot la lavo quindi l'ho lasciata là sotto perché la devo andare a lavare perché l'ho sporcata di rossetto e quindi la devo lavare e quindi è messa lì per lavarsi quindi per lavarsi perché si lava da sola la mia mascherina l'ultima cosa invece che vi faccio vedere è quella che ci sta accompagnando in questo periodo ed è la amica mucchina questa è quella della Sien ed è il secondo barattolino che abbiamo preso e se considerate che io esco poco e questa è la diciamo la situazione adesso questo ovviamente ce l'hanno tipo ad esempio anche i miei figli nello zaino per la scuola Carmelo ce l'ha in macchina ce l'abbiamo dappertutto perché ovviamente in base a dove te ne vai la devi utilizzare per forza le salviettine non le ho messe perché sinceramente avendo la mucchina non c'è bisogno delle salviettine e poi ci sono i fazzoletti quindi posso inumidire con la mucchina i fazzoletti o utilizzarlo quindi questo è tutto questo è tutto per quanto riguarda il what's in my bag adesso vi faccio vedere che lo riempio di nuovo vi faccio vedere come risulta il mio zainetto quando io esco allora per quanto riguarda questo video è tutto vedete tutto il contenuto l'ho messo di nuovo tutto qua dentro perché me lo devo riportare in giro quindi l'ho messo tutto qua dentro mi dispiace di non avervi fatto vedere la mia mascherina perché era particolare perché sono con dei disegni e quelli li ho presi all'ingrosso e quindi diciamo era un po' più particolare ma siccome si è sporcato con il rossetto l'ho lasciata di là nel bagno perché la devo lavare assolutamente se no me la dimentico e niente che dirvi ovviamente andiamo adesso a controllare cosa hanno dentro la borsa le altre due make up angels quindi sono molto curiosa di vedere cosa hanno e che tipologia di borsa stanno utilizzando in questo periodo io e il mio zainetto come Dora e il suo zainetto non so se ve l'ho ricordato vi salutiamo vi raccomando se vi è piaciuto questa tipologia di video se vi piace altri video scrivetemi un commentino io ve li vorrei fare cioè se mi dite che vi piacciono determinate cose volete sapere qualche altra cosa che riguarda anche le postazioni e tutto scrivetemi un commentino io spero di esaudire ogni vostra richiesta per quanto riguarda questo video è tutto io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao